Maria Vergine, Madre e Mediatrice di Grazia Ave Santa Maria, Fonte di Pietà, dal Tuo grembo purissimo sgorga la ricchezza di tutte le grazie, Cristo, vero Dio e vero uomo. Perla di Luce Maria, anche dopo la sua assunzione in cielo, con la sua molteplice intercessione, continua a ottenerci i doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice. Preghiamo O Dio, che nel mirabile disegno del Tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere. Donaci l'abbondanza delle Tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria Vergine, Madre e Mediatrice di Grazia, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi.